musica wey bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi ve lo avevo anticipato ieri anzi due giorni fa come sapete ragazzi siamo diventati partner di tadaaa instant gaming ragazzi una piattaforma online famosa in tutto il mondo quindi per tutti quelli che mi dicono xyuder ma mi posso stai qua tu xyuder ma mi posso fidare a comprare roba su instant gaming si ragazzi si andate tranquillissimi io stesso ho comprato l'anno scorso videogiochi su instant gaming quindi ragazzi andate tranquillissimi è una piattaforma mondiale ragazzi è famosissima siamo noi in italia ovviamente che non conosciamo nulla e i pochi che conoscono instant gaming sanno ovviamente quanto è seria questa azienda ma non sono qui per dirvi sbringhellate ragazzi volevo fare con voi una figata che come vi avevo anticipato dai ma stai qui dai ci prendo dentro da ieri ragazzi è disponibile per i partner ufficiali di instant gaming sono io sono io sono partner buongiorno salve grazie grazie allora ragazzi vi mostro un link sbring eccolo qua ragazzi copiate questo link che trovate ovviamente anche in descrizione alla seconda riga e vi permetterà entrando nel browser di accedere al mio primo contest ufficiale proposto da instant gaming voglio farlo con voi perché anche io non lo conosco ragazzi quindi apriamo una finestra del browser eccoci qua www.instant-gaming.com come vedete ragazzi ci appare mettiamolo in full screen che lo vediamo più sborghel abbiamo 9 giorni 10 ore 13 minuti per fare il contest con xyuder vinci un gioco a tua scelta allora ragazzi cosa importantissima qui voi cercate il gioco che volete provare a vincere ad esempio scriviamo fortnite diciamo che io vorrei questo mi piacerebbe un botto avere la skin del bombardino avete capito il tipo col cappello più 500 v bucks vi ricordo ragazzi che c'è un sacco di metodi per aumentare la vostra possibilità di vincere il bombarolo royal o qualsiasi altro gioco voi vogliate cioè se io scrivo per dire battlefield abbiamo l'accesso alla beta abbiamo addirittura battlefield 5 battlefield se scrivo call of duty abbiamo questo abbiamo il black ops 2 il modern warfare 3 abbiamo un sacco di cose noi ci concentriamo su fortnite bomber skin che ci piace un botto se voi qui ragazzi guardate questi più uno che vi sto facendo vedere sono relativi alle chance che avete di vincere quindi se seguite la pagina instagram di instant gaming se scaricate l'estensione del browser se mi seguite su twitter su instagram su youtube insomma ragazzi tutto quello che potete fare condividere un post su facebook o su twitter vi dà una chance in più di vincere e sono tante sono stupidate ragazzi dovete cliccare e basta non dovete fare chissà che cosa andiamo a provare insieme a vincere il bombarolo let's go già un account tg yes datemi da lì un mio account e il cascione di clash vediamo ci può entrare cosa c'è un facebook si prega di utilizzare facebook siamo dentro ah easy easy facilissimo dobbiamo rispondere a domani dobbiamo mettere da cioè ragazzi dai dai ragazzi ma qualche figata semplicemente accedendo al nostro profilo di instant gaming se non ce l'avete raga in due minuti ve ne create uno cioè dai lo sapete pure qua c'è il mio profilo facciamo che sloggate cioè basta che andate sul mio account registra manualmente un account cioè raga ci mettiamo un secondo adesso non stiamo qua a prenderci in giro semplicemente come avete visto cliccando voi siete partecipanti al giveaway quindi ragazzi applausi e basta per instant gaming ragazzi mi raccomando un bel pollicione in su buona fortuna a tutti voi per qualsiasi gioco sperate di vincere i risultati saranno disponibili nella pagina fra dieci giorni appena terminerà il giveaway e ovviamente spero che vinciate io vi ringrazio per avere guardato questo video ringrazio instant gaming per essere diventato nostro partner e ovviamente noi ci vediamo questa sera in live ciao ciao